Sfogliando il tempo è il suo ultimo libro, lo stiamo osservando. Qual è il contenuto di questo ultimo libro e che cos'ha di particolare rispetto alla sua produzione letteraria precedente? Allora, Sfogliando il tempo, come si vince dal titolo, è un libro che, diciamo, si dedica soprattutto al ricordo, alla memoria. I ricordi che sono legati alla mia infanzia, alla mia giovinezza e quindi anche alle persone care che hanno accompagnato questo percorso di vita. E questa, infatti, è la prima sezione in cui si parla appunto dei ricordi. La sezione centrale, invece, sempre riguardante il tempo, si intitola Tempo fragile. Perché? Perché abbiamo attraversato, e voglio parlare al passato, un tempo veramente in fausto, caratterizzato dal Covid. Quindi non potevo, come tutti gli scrittori e poeti, credo, non parlare di questa situazione anomala che ci ha tanto penalizzato, appunto. E infine, l'ultima sezione è ricorrenze, perché ci sono dei fatti che rimangono nella memoria, ma che si ripropongono con diverse modalità, diversi contesti, ma si ripropongono. Vogliamo ricordare quali sono stati i principali riconoscimenti che Gabriella Paci ha ottenuto per la sua produzione artistica e letteraria? I più prestigiosi, indubbiamente, sono quelli a livello internazionale. E anche di questi, diciamo, ne ho accumulati tanti. Devo dire la verità, siamo a circa 160 premi, tenendo la cronologia più o meno. Questo libro, che è uscito nel 2021, quindi è fresco di stampa, che non ha avuto neanche una presentazione diretta a causa della situazione che noi conosciamo, ha già avuto due riconoscimenti, credo, di un certo prestigio. Il premio Casentino, a Poppi, e il premio AUP, ovvero scrittori internazionali a Milano.